Radio Radicale, siamo con l'On. Maurizio Lupi per parlare dello scontro sulla politica estera. Allora, oggi addirittura interviene Grillo per parlare del secondo mandato, quasi che questo tema fosse più importante della posta in gioco che c'è oggi nel dibattito al Senato. Allora, mi sembra che abbiamo visto poco equilibrio in queste ore. Ieri lei ha fatto una dichiarazione dove si appellava anche a Conte. Ma sì, mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia sul loro dell'implosione, ma è da irresponsabili far ricadere legittimi problemi interni, cercare di tenere in vita un movimento politico, evitare le scissioni o portare alla scissione sull'interesse di tutti. La politica estera è, abbiamo visto purtroppo in questo periodo, quanto è importante, non solo per gli equilibri internazionali, ma innanzitutto per la vita di ogni cittadino. E ho detto a Conte che se quello vuole fare l'avvocato del popolo, il primo interesse di un avvocato è quello di difendere l'interesse di un popolo. E oggi l'interesse del popolo italiano è che in politica estera il Parlamento sia unito, sia coeso rispetto a una posizione del governo, che tra l'altro sta dimostrando grande autorevolezza, cioè sulle tre strade che noi abbiamo individuato, che sono quelle delle sanzioni, quello di aiutare il popolo ucraino, anche con l'invio delle armi, e quella dell'arma della diplomazia, che oggi più che mai, a ormai 10 giorni, 120 giorni dall'inizio della guerra, diventa strada importante. Ma se in questo momento indeboliamo l'azione del governo, stiamo non facendo gli interessi del popolo italiano. Poi si rinchiudono in una stanza, esplodano, si implodano, facciano i kamikaze, cioè facciano quello che desiderano. Però è davvero il responsabile di quello che sta accadendo. Speriamo che in queste ore il buonsenso torni ad essere il punto di guida per tutti. Vuole dire qualcosa su Fico? Beh, Fico, cioè io credo che... L'hai ricordato il mio Reggio Francofini. Sì, esatto. Io credo che quando si fa il Presidente della Camera, conviene guardare bene alla storia. Abbiamo avuto l'esempio del Presidente della Camera Fini, abbiamo avuto il leader di Rifondazione Comunista, che ha fatto il Presidente della Camera e poi pensando di... Contrattando quel ruolo come se fosse un ruolo di governo. Contrattando quel ruolo come se fosse un ruolo di governo, poi si è visto che la ricaduta politica è stata assolutamente... La legislatura successiva, la Rifondazione, non è entrata neanche in Parlamento. Quindi bisogna imparare sempre dalla storia delle istituzioni. Devo dire che il modello assoluto è sempre stato Pier Ferdinando Casini, che nei cinque anni di Presidenza della Camera proprio si è astenuto in ogni caso da fare politica e poi ha raccolto invece i frutti di quella immagine perché ha investito su questo. Comunque, io credo che... Era già paradossale che ci fosse un Ministro degli Esteri, capo delegazione del governo, nel governo del Movimento 5 Stelle, nonché, ricordo a tutti, il leader che si è stato a proposito del rispetto della volontà degli elettori. Il Movimento 5 Stelle si presentò con Di Maio, non con Conte come leader. E piaccia o non piaccia, quel signore ha preso il 32% dei voti e, nonostante questo, la coppia Casalino-Conte pensa di fiduciare il proprio Ministro degli Esteri e attaccare frontalmente la politica estera del governo. Mi sembra proprio l'idiozia delle idiozie. Vuole dire qualcosa su Grillo che oggi è preoccupato per la questione del doppio mandato? Cioè, mi sembra un tema all'ordine del giorno? No, mi sembra che con tutto il rispetto anche i leader invecchiano e l'intuizione geniale che aveva avuto, aveva portato un movimento ad arrivare dal movimento del WAF al 32%, oggi si sta involvendo nell'idea di avere un contratto come ha avuto da parte del Movimento 5 Stelle per la gestione della comunicazione e poi andare a recuperare alcune battaglie. Ma non credo che agli italiani ne freghi assolutamente qualcosa del doppio mandato, anzi, io credo che si sia accorti che c'è bisogno di esperienza quando si ricoprono cariche di governo. E se abbiamo perso anni è perché il Movimento 5 Stelle non aveva assolutamente esperienza. Quindi, detto questo, mi sembra il doppio mandato una puttanata di dimensioni statunzionali. Oggi Putin per chi fa il tifo? Oggi Putin sta facendo il tifo oggettivamente per tutti quelli che stanno indebolendo l'unità delle forze politiche in politica estera. Quindi sta facendo il tifo, viva Conte, viva Casalino e viva tutti quelli che non capiscono che il problema non è portare le legittime dubbi che si hanno ma è nei dubbi dare un contributo a che il Paese in politica estera sia unito in una posizione molto chiara. Draghi, quando si è insediato, lo dirà credo oggi pomeriggio e lo dirà domani, ha detto con chiarezza che questo governo nasceva su un pilastro. Atlantismo e europeismo. Chi non si rivolgeva, tra l'altro, se ci si ricorda polemicamente, un po' alla Lega. Chi non aderiva a questi due principi non poteva far parte del governo. Scelga Conte se far parte o non far parte, poi ce ne faremo una ragione. La politica è andata avanti per anni senza il Movimento 5 Stelle e può andare avanti per altri vent'anni senza di loro. Bene, grazie a Maurizio Lu. Grazie a tutti. Ciao.